È molto bello poter parlare di Metaforce. Io sono Renata, sono italiana e vivo a Roma. Sono entrata in Metaforce grazie a mia cugina, alla mia famiglia, che credo che mi abbia fatto veramente uno dei più bei regali che mi potesse fare. Sono contentissima di poter parlare di questo alle persone. Credo che sia anche molto facile parlarne, perché nel momento in cui tu ne parli già sai che stai aiutando quella persona a cambiare il proprio stile di vita. Metaforce è un sistema, un progetto di economia decentralizzata, circolare, che permette di creare ricchezza a tutti e per tutti, semplicemente condividendo un progetto. Possono partecipare tutti, anche con pochissimo, da qualsiasi parte del mondo. E la cosa ancora più bella è che tu puoi lavorare, condividere questo progetto dovunque tu ti trovi, anche in vacanza. Ecco perché è bello parlare di Metaforce, perché Metaforce ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi, cambiare il suo stile di vita e ti rende vinto. Grazie a tutti.